Buonasera ragazzi, hanno tolto i punti di penalizzazione alla Juve adesso ovviamente hanno istituito i 15 punti che mi mancavano e sono a 59 punti ma in Italia Napoli è 75 voglio ricordare quindi non è un fastidio che va al Napoli il fastidio al Napoli non ci sta proprio perché sono 59, 69, 15, 16 punti in più per dire, adesso non è forte però è un fastidio per gli altri concorrenti con Milano, Inter, Lazio e Roma e non è fastidio per loro detto questo, a me fa piacere, sapete perché? hanno chiagnuto, hanno pianto per un mese e mese dicono a Napoli così vince un campionato falsato senza punti potreste vedere con 15 punti in più come farebbero voi i punti ce l'hanno ridati, siete muti, vediamo che fate il Napoli dice lo scudetto, io spero che lo vinca se almeno non ci avete più scuse per piangere voi i punti ce l'avete, fate cosa dovete fare forza Napoli e il resto del fangolo Grazie a tutti